I giorni della merla Tanto tempo fa i corvi erano di colore bianco e il sole faceva splendere ancora di più le loro candide pume mentre volavano felici nel cielo. Ma ci fu un anno che le cose cambiarono. Gli ultimi tre giorni, il 29, il 30 e il 31 di gennaio, cominciò a cadere tantissima neve e tutto diventò bianco e ghiacciato. Sui rami di un albero, dentro un nido, dei piccoli merli avevano tanto freddo e tanta fame. Papà Merlo ebbe un'idea! Pensò di spostare il nido sul tetto di una casa. E mentre mamma Merlo con i suoi piccoli si scaldavano con il fumo che usciva dal comignolo, papà Merlo partì in cerca di cibo. Quando tre giorni dopo, papà Merlo tornò a casa. Quasi non riconosceva più la sua famiglia. Il fumo nero del comignolo aveva fatto diventare di colore nero le piume degli uccellini. Da quel giorno tutti i Merli nascono con le piume nere!